Buon martedì di questa quarta settimana del tempo di avvento, sempre di più ci approssimiamo al Natale del Signore e il brano del Vangelo di questa giornata è proprio l'annuncio dell'Angelo a Maria, con il sì di questa coraggiosa ragazzina a questo piano di salvezza universale di Dio, ven da tremare davanti a questo coraggio, a questa disponibilità, a questo pronto sì. E ancora una volta legato a questo brano della vita di Gesù, ci viene riportato un brano dell'Antico Testamento come prima lettura di questa giornata dalla liturgia. In quei giorni il Signore parlò ad Akaz, chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto, ma Akaz rispose, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Dal libro del profeta Isaia impariamo questa decisione di non compromettersi con Dio da da parte del re di Israele. Pur conoscendo la storia di interventi prodigiosi da parte di Dio a favore del suo popolo, c'è questa mentalità del temere Dio che poi chieda qualcosa che rovina la mia vita, i miei sogni, i miei desideri. Quindi, anche se mi offre il suo aiuto, io non lo voglio. Ma Dio, attraverso il profeta Isaia, comunque annuncia. Ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e pattorirà un figlio che chiamerà Emanuele, il Dio con noi, il Messia atteso. Non si ferma davanti ai nostri no grazie Dio, perché sa che sono dettati da una cattiva visione di Lui, perché sa che sono dettati da incomprensione. Egli è il nostro Padre, ci ha desiderati, creati per la nostra felicità, perché potessimo gustare la pienezza della vita nel tempo che già ci piace tanto, all'eternità. Allora, ascoltiamo il brano del Vangelo di oggi e impariamo. mettiamoci a scuola di questa 12-14enne di questo sperduto paesino così capace di avere una vera consapevolezza di chi è Dio, tanto da gettarsi nelle sue braccia, nella sua parola e diventare madre dell'Emanuele. Dal Vangelo secondo Luca, nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una Vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, ti saluto o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come è possibile, non conosco uomo. Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei.